Boom di matrimoni nell'ultimo anno, nel 2015, infatti sono stati celebrati in Italia 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più rispetto al 2014. Si tratta dell'aumento annuo più consistente dal 2008. Le stime sono state rese note dall'Istat, che ha registrato una diminuzione dei matrimoni al ritmo di 10.020 in meno su base annua fino al 2014, notificando una ripresa solo nel 2015. La durata media del matrimonio al momento della separazione è di circa 17 anni, ad aumentare pertanto non solo i dati relativi alle unioni, ma anche quelli che concernono le separazioni. Negli ultimi vent'anni è raddoppiata la quota delle separazioni dei matrimoni di lunga durata, passando dall'11,3% del 1995 al 23,5% del 2015. Secondo i dati provvisorie relative ai mesi da gennaio a giugno 2016, l'incremento dei matrimoni sembra proseguire anche nel 2016. Ci sono infatti 3.645 le celebrazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2015. La ripresa dell'annunzialità è diffusa su tutto il territorio. Gli incrementi maggiori si sono registrati in Piemonte e in Sicilia. In questo quadro di crescita generale e nazionale, la Puglia, insieme al Molise e all'Umbria, rimangono indietro, registrando per contro una diminuzione del numero di nozze celebrate. Grazie a tutti.